È possibile che sia veramente arrivato il momento in cui è necessario abbandonare in massa le piattaforme di meta e riversarsi tutti quanti su TikTok. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e quelli che mi conoscono si staranno sicuramente domandando se io sia completamente bollito. A tutti voi amici una rassicurazione, faccio questo video senza costruzione alcuna e non sono impazzito. Vado però a raccontarvi di un'esperienza lavorativa che ho avuto perché mi è capitato di lavorare proprio per il colosso cinese. Prima di cominciare vi ricordo che essendo un periodo di crisi anche in ambito digital e anche in ambito big tech, se volete dare una mano e sostenere questo canale potete farlo in maniera completamente gratuita semplicemente iscrivendovi, cliccando il bottone qui sotto e attivando anche la campanella. Un bel like non guasta perché anche quello mi aiuta con l'algoritmo e vi invito a commentare per farmi domande o per mandarmi a quel paese per il titolo clickbait e l'anteprima clickbait di questo video. Vado a parlarvi di questa esperienza su due piani diversi. Il primo è quello puramente lavorativo perché vi racconto che cosa mi hanno chiesto e vi racconto che cosa ho utilizzato per addempiere alla richiesta che mi è stata fatta. Dunque TikTok organizza una serie di eventi e ha bisogno delle riprese di questi eventi per cui io vengo contattato in quanto professionista nell'ambito della fotografia e del videomaking e il mio compito è quello di realizzare le riprese di quest'evento durante il quale si alternano degli speaker. Ora voi vi starete domandando che tipo di strumentazione utilizzi. Ora vi posso dire che non ho usato nessuna delle fotocamere o videocamere di cui vi ho parlato su questo canale perché per un evento di questo tipo quindi un evento abbastanza lungo abbastanza dilatato nel tempo e soprattutto con dei cambi di inquadratura molto frequenti che devono però mantenere una transizione fluida l'utilizzo di una vecchia fotocamera reflex o anche di una moderna mirrorless non era secondo me la scelta più azzeccata. Per un tipo di ripresa come questo non c'è niente di meglio di un camcorder ed è proprio quello che ho utilizzato. Ho utilizzato una non vecchissima ma comunque abbastanza obsoleta videocamera. Nel mio caso è l'Alegria HF25. HF sì mi sembra di sì. Vi lascio comunque il link di Amazon in descrizione se volete andare a vedere cosa si tratta. È una videocamera normalissima che produce filmati in full HD. La sua particolarità però è di avere un range di zoom molto molto versatile. Con una videocamera del genere io sono in grado di fare un totale sulla sala in cui si sta svolgendo l'evento e poi sono in grado di zoomare e di andare a prendere il particolare di una persona che parla. Quindi questa è la videocamera che ho scelto per coprire un evento di questo tipo. Vuoi per lo zoom e per la facilità di utilizzo. Quindi stiamo parlando di una videocamera con messa a fuoco automatica. Quindi nel momento in cui io sto operando devo occuparmi solamente dello zoom e dell'inquadratura. Non devo pensare al focus perché la videocamera ci pensa da sola. Questa è una manna in questi casi voi direte lo fa anche la mirrorless. Sì però con la mirrorless hai molta difficoltà a trovare un'ottica che ti copra tutto quel range. Io ho una camera sola sto parlando di un lavoro a camera fissa quindi ho bisogno di una sola camera con cui gestire l'intero evento. E qui arriviamo al secondo problema ovvero l'alimentazione. Perché sì è vero che possiamo collegarci alla corrente però è vero anche che una mirrorless difficilmente mi tira per tutto quel tempo. Quindi una mirrorless come sappiamo può andare in surriscaldamento. Una mirrorless come sappiamo può terminare la batteria. Una mirrorless è anche possibile che esaurisca la scheda di memoria. Perché per quanto le schede di memoria siano capienti una mirrorless ha dei formati che sono più pesanti anche girando semplicemente in full hd sono più pesanti perché sono più belli sono più ricchi di dati. Per un evento come questo non è richiesto quel tipo di qualità. Non serve il silog, non serve fare post produzione, serve azzeccare l'esposizione subito. Non è assolutamente necessario avere un file ricco per cui quello che io produco con un camcorder è assolutamente sufficiente. Infatti il mio contatto presso l'azienda era molto soddisfatto della qualità perché probabilmente venendo comunque da un'azienda che per loro stessa ammissione è un'azienda che tratta prevalentemente in filmati lo-fi. Questo lo apprendo anch'io durante la loro presentazione. Essendo abituati a un tipo di filmati chiamiamoli caserecci. Semplicemente vedendo un tipo di filmato prodotto da un camcorder notano comunque la differenza di grana perché comunque camcorder per quanto sia vecchio, per quanto sia full hd e quindi non 4k però la differenza della grana si vede. Cioè comunque è uno strumento che è pensato per quello ed è dedicato a quello e ha un sensore da micro 4 terzi quindi è più grande comunque di un sensore di un cellulare. Insomma la differenza di passo si vede e soprattutto la fluidità della transizione tra una ripresa e un'altra quindi una zoomata che è tutta una zoomata di qualità perché è una zoomata ottica quindi non è una zoomata digitale fatta con i pollici sull'iPhone. Si vede la differenza soprattutto una cosa che mi ha fatto molto gioco è l'utilizzo dei microfoni che ho già recensito sul canale quindi vi lascio un video in descrizione i microfoni wireless della Holyland il Lark M1 si tratta di un microfono wireless a clip mi sono trovato devo dire molto bene con questi microfoni perché microfonando opportunamente gli speaker quindi con un minimo di brief agli speaker che poi si sono bravissimi si sono messi il microfono da soli abbiamo catturato l'audio pulito vi assicuro che nel momento in cui andiamo a vedere la differenza tra l'audio registrato dal microfono della videocamera e il microfono registrato con il Lark M1 c'è una differenza che fa spavento cioè se pensate che fino a qualche anno fa probabilmente a un evento come questo si sarebbe ripreso solo l'audio ambientale è una cosa che fa veramente paura il risultato che si otteneva una volta e quello che riusciamo a ottenere adesso fa tutta la differenza del mondo quindi abbiamo una pulizia che fa parte poi di quello che noi portiamo e offriamo al nostro cliente nel momento in cui ci sono degli speaker li microfoniamo bene con una soluzione wireless quindi attenzione la sala non era attrezzata con microfoni gli speaker parlavano a voce e basta una sala abbastanza piccola quindi non c'erano microfoni io avevo anche pensato di prendere l'audio dal mixer se fosse stato un mixer di sala potevo usare il Tascam DR40 per prendere l'audio dal mixer pulito ma non c'era mixer quindi in questo caso è una volta veramente si sarebbe catturato l'audio ambientale cosa che ho pur fatto perché avevo anche il Tascam DR40 che ho messo vicino agli speaker così ho catturato anche l'audio della sala era comunque un audio molto molto sporco per cui il fatto di utilizzare i microfoni wireless a clip ti cambia il lavoro proprio sia come comodità e perché hai già comunque l'audio sincronizzato con il video sia come resa finale che poi porti al tuo cliente un'altra cosa molto bella di cui vi voglio parlare in questo video di come il lavoro sta cambiando in questi anni e di come io stesso sono scettico perché sono vecchio sono abituato a lavorare in un certo modo e quindi quando mi dicono ormai si lavora su whatsapp la mia reazione è l'orrore proprio cioè non si dovrebbe fare così si dovrebbe lavorare con la mail essere serie tutto quanto ora esistono certi clienti che ti faranno pentire di essertelo installato whatsapp però esistono anche dei clienti ovviamente questo è uno di quei casi in cui il cliente è evoluto e quindi sa benissimo quando si può usare whatsapp e quando si deve usare la mail quindi per scambi di materiali i file finali e cose del genere le bollette le fatture eccetera si usa la mail perché è un strumento professionale per comunicare rapidi quando c'è una cosa da dirsi si usa tranquillamente whatsapp nel modo corretto e vi faccio vedere questa esperienza che è una sorta di è un brief a distanza perché quello che è successo è che mi sono recato a fare sopralluogo nella sede in cui poi si è effettivamente svolto l'evento sono entrato da solo perché non era ancora allestito quindi mi sono annunciato all'ingresso ho chiesto il permesso di fare sopralluogo sulla location mi hanno detto sì sì vai pure quindi sono entrato da solo nella location non allestita e vi faccio vedere il video in cui io spiego al mio cliente che cosa si può fare in una sala come questa quindi mio cliente era assente io ho registrato questi spezzoni video che adesso vi mostro e li ho inviati in tempo reale al mio cliente per fargli vedere come era la sala mio cliente era era in viaggio quindi non poteva venire quindi tramite la tecnologia tramite whatsapp siamo stati in grado di vedere insieme come era la sala e di decidere come lavorare vi mostro il filmato globalmente direi che la sala si presenta molto bene mi hanno detto che non è allestita per l'evento adesso ma è allestita per un'altra cosa quindi non la troveremo così ma la troveremo levemente diversa però insomma io mi faccio una chiara idea della disposizione delle persone e immagino che userete il lato con il monitor uno dei due lati con i monitor per far parlare le persone diciamo che se fate posizionare le persone qui io mi posizionerei qua in maniera tale che posso prendere loro zoomare efficacemente sul monitor e fare delle carrellate sulla sala se necessario se invece le persone si posizionano lì bisogna vedere quanto ingombro dalle teste delle persone che siedono qui davanti perché potrei fare la ripresa da qua quindi avere le teste delle persone qui sopra e avere le persone che parlano lì dietro col monitor lì dietro oppure potrei mettermi di lato potrei mettermi un punto tipo questo e quindi avere tutto il tavolo con le due persone che parlano io poi posso zoomare sulle persone che parlano quindi posso fare un'operazione di questo tipo andare a prenderli anche in primo piano mentre parlano oppure posso venire a lato però questa mi sembra più carina come totale invece per avere la possibilità di gestirmi sia questo contesto sia le persone lì dietro secondo me qui potrebbe essere l'ideale perché mi metto un po' alto così riesco a zoomare sulle facce delle persone che parlano riesco a zoomare sullo schermo però anche il contesto davanti che cosa ne dici ok prova audio questo qui è uno dei due microfoni io adesso lascio questo microfono a un'estremità del tavolo e vado all'altra estremità del tavolo così vediamo se entrambi i microfoni stanno funzionando e se entrambi i microfoni prendono su tutti e due i lati della sala vuol dire che abbiamo la copertura sull'intela sala e che quindi se microfoniamo le due persone per volta avremo l'audio perfetto in più faremo anche la microfonazione ambientale e poi vediamo se riusciamo a piazzare anche un microfono da tavolo c'è stato poi uno scambio nel senso che il cliente nel momento in cui vedeva una clip magari mi rispondeva mi commentava e mi diceva sì allora quello che dici va bene però facciamo in quest'altro modo perché c'è questa questa e questa problematica al che io rispondo e allora se sarà così quindi indovino che il lato è quello quindi qui ci saranno tutte le sedie a questo punto io probabilmente mi metto o da questa parte faccio questa ripresa o forse ancora meglio mi metto da quella parte faccio quella ripresa dall'altra parte così non sto davanti alla porta cosa dici allora lato mio non è un problema togliere il tavolo assolutamente noi possiamo quindi posso fare la ripresa da qui faccio questa ripresa quindi posso carrellare di qua se voglio inquadrare le persone posso zoomare lì se c'è un'azione da prendere lì il tavolo se lo togliamo va bene togliamolo pure se lo lasciamo però io metterei un terzo microfono sul tavolo magari c'è anche questa possibilità però è abbastanza indifferente perché ne abbiamo già due di micro cioè ne abbiamo già tre in realtà abbiamo i due pulce wireless da mettere sulle persone più uno ambientale che metterei probabilmente lì davanti da qualche parte ce lo inventiamo con un cavalletto mettiamo un cavallettino magari davanti al tavolo quindi tipo qua in modo che non dia fastidio mettiamo un treppiedino qui con un microfono che cattura qui quindi abbiamo i due microfoni su di loro il microfono lì che comunque li prende se c'è il tavolo possiamo mettere un quarto microfono sul tavolo ma è assolutamente non necessario secondo me quindi il tavolo lo possiamo togliere per me per la verità io potrei anche farla da qui la ripresa perché io potrei anche se tutti stanno seduti quindi se nessuno mi impalla quelli che parlano io potrei anche farla da qui la ripresa e quindi potrei di volta in volta zoomare e fare questo frame quando loro parlano poi zoomare indietro se ci sono applausi o cose del genere insomma non ve lo faccio neanche vedere tutto però avete capito contesto è molto bello la sede è milano centrissimo quindi bello tutto bello lindo pulito è anche un piacere lavorare in un ambiente di questo tipo sono contento che che mi abbiano chiamato per fare questa cosa e sono contento che siano soddisfatti perché vuol dire che ce ne saranno delle altre insomma si spera questo era per farvi vedere come anche un vecchio brontolone come me comunque riesce ad adattarsi a determinati contesti e devo dire che ho anche sentito molta positività da parte di questo brand nel senso che durante la presentazione ho proprio percepito come gestiscano le cose in una maniera a cui chi come me viene da meta non è molto abituato perché su meta fondamentalmente noi entriamo almeno parlo della mia esperienza personale ma molti mi dicono che è la stessa cosa se pensiamo a instagram sono abbastanza convinto che la penseremo tutti allo stesso modo su meta tu entri con l'ansia perché comunque su facebook entri per lamentarti sei già arrabbiato cioè su facebook vai per lamentarti è il social media della rabbia lo dicono tutti della rabbia e della frustrazione instagram è il social media dell'invidia quindi comunque su facebook tu entri per lamentarti su instagram tu entri per guardare qualcuno che è più figo di te e rosicare sono così quelle due piattaforme sono così c'è poco da fare su tiktok invece il mood è completamente diverso su tiktok tu entri senza aspettative magari cioè non entri pensando vediamo cosa fa quello là oppure devo lamentarmi di una cosa allora vado lì cioè non è il posto in cui andare a lamentarsi non è il posto in cui andare a rompere le scatole non è il posto in cui andare a rosicare è un posto in cui andare a divertirsi è un posto dove tu entri e vedi delle stupidate vedi della gente che cade della gente che ride della gente che balla ora non me ne frega niente a me di questo tipo di contenuti non me ne frega assolutamente nulla io vado molto più forte qui su questa piattaforma come come ben sapete quindi ce l'ho tiktok attenzione ce l'ho da da tempi non sospetti me lo sono fatto per capire per essere comunque dentro vedere cosa succede non lo uso tanto perché a me non interessa ridere io quando voglio stare bene faccio delle altre cose però la cosa interessante dicevano durante questa conferenza che comunque i dati ci confermano che quando un utente va su meta su instagram su facebook la sua reazione è di un certo tipo e di questo non si è parlato tanto lo sappiamo già che cosa succede quando uno va sulle piattaforme di meta quello che ho trovato interessante è che invece quando entri su tiktok abbiamo una percentuale abbastanza generosa di utenti che stanno meglio quando sono sull'app o subito dopo averla usata piuttosto che prima di accedervi questo è incredibile se ci pensate perché personalmente io quando vado su facebook sto in un modo prima di entrare sto nello stesso modo quando sto su e sto nello stesso modo quando esco difficilmente sto meglio quando esco magari sto peggio su instagram sto sempre peggio dopo averla utilizzata perché ma perché sì perché comunque vado su vedo comunque contenuti che magari mi fanno venire il nervoso perché su instagram tu entri proprio con il mood di dire vediamo cosa sta succedendo ecco questo qui ha avuto quell'occasione mannaggia la volevo io e quell'altro invece a cavolo guarda sto qui in vacanza io invece sto lavorando cioè difficilmente esci da instagram dicendo che bella giornata capito cosa voglio dire esci comunque con uno strascico negativo almeno questo vale per un ampio campione vale anche per me ovviamente non è che se entri su quelle piattaforme ti suicidi non sto dicendo questo però diciamo che difficilmente un utente di meta vi verrà a dire che dopo aver utilizzato la piattaforma si sente meglio ecco quindi io sono qui a farvi questo contenuto per due motivi fondamentalmente il primo è per raccontarvi di questa esperienza di cui sono molto contento e niente questo ve l'ho già detto la seconda cosa è per portarvi questa esperienza questa testimonianza del fatto che non importa che età abbiamo non importa quanto siamo rompiscatole io sono estremamente generoso sia sull'anagrafica sia sull'essere rompiscatole però con questo non voglio dire che dobbiamo adattarci quindi arriva tiktok dobbiamo farci tutti tiktok no non dico questo dico però che ignorare certi fenomeni non ci fa bene far finta che certe cose non stiano succedendo non ci fa bene e quindi ogni volta che stiamo a osservare un fenomeno nuovo relativamente nuovo tiktok non è uscito ieri per esempio vi faccio l'esempio anche dell'intelligenza artificiale chat gpt eccetera eccetera ogni volta che stiamo a osservare un fenomeno nuovo cerchiamo di non guardarlo sempre con stizza come dire ma se a me che cosa cacchio me ne frega tanto io c'ho sempre la mia vecchia fotocamera faccio i miei paesaggi su tre piede e chi se ne frega attenzione noi abbiamo la nostra vecchia fotocamera io sono il primo io ho la mia vecchia fotocamera e faccio le mie cacchio di cose su tre piede pacifico però ignorare quello che sta succedendo perché noi vogliamo fare paesaggio su tre piede è un rischio è un rischio perché la comunicazione sta cambiando e se noi usciamo a fotografare gli ironi per nostro diletto ma lì è pacifico io posso uscire andare a fotografare i petti rossi al parco o andare a fotografare le nuvole cosa che a me piace tantissimo e lì nessuno ti dice niente però sei tagliato fuori cioè ed è un peccato perché anche se lo stai facendo per te stesso per hobby magari puoi aver piacere nel condividere il tuo lavoro magari la gente può aver piacere nel vedere il tuo lavoro condiviso se non stai al passo con quella che è la comunicazione in ambito digitale perché ormai è lì se non stai al passo il tuo lavoro non viene fuori ed è un peccato cioè te lo tieni per te però dobbiamo domandarci se la gioconda fosse naufragata su un vecchio vascello e fosse finita sul fondo del mare sarebbe lo stesso un'opera d'arte sarebbe lo stesso il quadro più famoso del mondo probabilmente no perché non l'avremmo mai visto sarebbe finito in fondo al mare starebbe lì a macerare non sarebbe considerato un'opera d'arte quindi io dico semplicemente questo è un peccato poi non è obbligatorio farsi di tutte le piattaforme ovviamente ognuno fa quello che vuole però è un peccato dire a prescindere no queste stupidate io non le faccio diamogli un occhio diamogli un occhio prima di dire io non lo faccio perché può essere che scopriamo delle cose che tirano fuori il nostro lavoro che ci portano fuori agli occhi di un pubblico che può essere interessato quindi non bisogna per forza ballare su tiktok semplicemente questo vi dico e con questa toccante esperienza io vi ricordo di iscrivervi al canale se avete trovato interessante istruttivo educativo questo contenuto non mandatemi a quel paese perché oggi non ho parlato di strumentazione nello specifico ma ci vedremo presto con nuovi video sul canale in cui vi farò vedere nuove diavolerie che si stanno avvicendando sul mio tavolo di lavoro e lasciate anche un like a questo video già che ci siamo perché sono sicuro che se l'avete guardato fin qui qualcosa di buono ci avrete trovato amici io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao